Certi atleti sono nemici giurati, ma la rivalità più accesa è stata quella fra due pugili, Razor e Kid. Hanno combattuto solo due volte, ma lo spareggio non si è mai tenuto. Oggi annuncio il mio ritiro dalla box professionistica. Una società vuole lo spareggio ufficiale e vi danno 100.000 a ognuno. Non posso stare nella stessa stanza con lui, non ci sto. Che significa non ci sto? Guarda questa cavolo di casa! Trent'anni! Sì! Rimettiti in forma. Scordatelo, sono un dinosauro. Ci divertiremo un'ultima volta. Sono il tuo allenatore. Non sei il mio allenatore, al massimo puoi averlo mangiato. Devi allenarti. Che ho fatto? Ne folle. Dammi una ragione. Sei grasso e le ginocchia deboli, sei grasso. Non addolcirmi la pillola, sii sincero. Se uno di voi va al tappeto, potremmo dire che gli è venuto il colpo della strega. Così divento scemo. Com'era Gesù? Sono curioso, era forte. E cavolo! Sarà intrattabile quando arrivi alla pubertà. È la nostra ultima occasione. Finiamola una volta per tutte. Tutto il mondo ride di noi, ma non siamo morti. Questa storia mi fa sentire più vivo che mai. Non importa quanto vi allenerete, non sarà mai il vostro meglio. È il meglio che possiamo. Da Segato venire senza reggiseno. Ti ho cagato sulla Porsche. Siamo in diretta, ragazzi. State buoni. Ehi, cosa fai? Siamo qui per comprare la cena, non per prenderla a pugni. Sì.